Un impegnativo e serrato cronoprogramma imposto dalla legge del Rio stabilisce che dal 1 ottobre 2014 dovrà essere attivo il Consiglio Metropolitano e dal 1 gennaio 2015 le città metropolitane saranno una realtà e rappresenteranno una straordinaria opportunità di sviluppo dei territori, soprattutto se si potrà contare sulla massima collaborazione tra le istituzioni interessate. La città metropolitana apre una fase istituzionale e politica, è una fase costituente e il mio auspicio è che quando ci sono fasi costituenti nessuno si può sottrarre e nessuno può pensare di farla da padrone, né il sindaco di Napoli né un partito che si sente maggioritario e che magari vuole fare il dominus di tutto, l'Italia riparte col contributo di tutti, la città metropolitana vive se ognuno avverte un senso di responsabilità, lo dico al PD, lo dico a Forza Italia, lo dico ai partiti della sinistra, del centro, lo dico ai cittadini, non mi sembra il luogo dove fare colpi bassi e io avverto il pericolo che in questi sei mesi ci possano stare più di un colpo basso, quindi noi come comune di Napoli siamo abituati a avere gli occhi aperti, io poi sono sempre uno che ha due occhi avanti e due indietro perché guardo sempre chi ti vuole infilare un coltello dietro alla schiena e ce ne sono di persone e di personaggi che lo vogliono fare, quindi non ci faremo come dire gabbare di chi vuole approfittare di questa fase di transizione per fare giochini sporchi ai danni dei cittadini, su questo ci sarà la massima attenzione e la massima durezza. Un convegno nella Sala degli Angeli dell'Università su Orsola Benincasa stamattina ha fatto il punto sullo scenario normativo e geopolitico di questa forte innovazione istituzionale, alla presenza fra gli altri del Ministro degli Affari Regionali Maria Carmela Lanzetta. Aspettiamo tanto dal governo per sostenere questa riforma storica, noi ci stiamo preparando, ci faremo trovare pronti, c'è un cronoprogramma fittissimo, l'appuntamento più importante è l'elezione del Consiglio metropolitano a settembre, lo statuto e quindi l'entrata in vigore a tutto tondo per il primo gennaio, la città metropolitana subentra nei rapporti attivi e passivi della provincia. Un importantissimo lavoro istituzionale e politico che si deve fare, 93 comuni, cambia il destino della nostra grande area metropolitana, quindi se costruiremo buone fondamenta sarà un destino migliore rispetto a quello che abbiamo visto in questi anni, se falliamo ci saranno ricadute pesantissime sui cittadini, quindi il governo deve far parte di questa partita perché sinora non ha messo un euro ed essendo una riforma epocale c'è bisogno di un'attenzione del governo, ma mi pare che c'è tutta l'attenzione che questa riforma merita. Grazie